ma l'hai sentito di un francesco monte? non vuol dormire con... ma se ci ha dormito fino all'altro ieri? vabbè le cose cambiano, le cose cambiano quando non ci sono più le tre camere cambiano perché tutto assuma un altro sapore ma questa è un'accusa pesante questa è un'accusa pesante signora Parpigliessa qui stai facendo un po' la giornalistessa che cosa? stai dicendo che stai facendo la giornalistessa così piana tu stai dando dei giudizi e stai poverino mettendo in cattiva luce il monte vabbè magari mi sbaglio e se invece siccome abbiamo visto e se invece fosse il contrario perché non è che tale mamma tale figlia no vabbè staremo a vedere adesso ci colleghiamo 24 ore per vedere se questi dormono insieme intanto andiamo noi a dormire insieme va ciao 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 Grazie a tutti.